Torna in campo la Serie C con un derby che in passato ha caratterizzato una grande rivalità tra Monteverti e Siena. Le partite hanno sempre una valenza che va oltre i dettati tecnici. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte in campionato che hanno fatto veramente male. Il Siena ha perso lo scontro diretto con la Reggiana al Franchi. La sconfitta ha frenato gli entusiasmi che erano sorti dopo uno buon avvio di stagione. La squadra di Gilardino è stata ripescata e non nasconde le sue ambizioni. Da parte sua il Monteverti ancora deve digerire la scoppola subita sul terreno amico di Pontedera contro il Pontedera. I rosoglu sono apparsi scarichi e senza quella brillantezza che li ha caratterizzati finora. Malotti aveva avvertito che non sarebbero state rose e fiori. Ecco che l'undici valvernese è chiamato a dare una risposta forte. In tanti hanno fatto Cilecca. Non mancheranno le motivazioni e la partita con il Siena le porta con il pilota automatico.